allora vediamo l'ennesimo set di supporti per telepass è un a quanto pare un prodotto molto richiesto perché ne stanno producendo veramente moltissime vediamo questo è un set composto da quattro pezzi vediamo se riesco a non fare danni sì perfetto allora a vederli così diciamo che sembrano quasi identici agli originali sono un pochettino più grezzi nel senso che non so se si riesce a vedere ma c'è una leggera bava però diciamo che non lo vedo un grosso problema e poi vengono forniti anche in questo caso non sono già dotati di adesivo installato ma viene fornito comunque poi il biadesivo classico che in questo caso è di colore bianco di solido sono trasparenti per cui a livello estetico forse non è bellissimo comunque a parte questo diamo un'occhiata anche all'inserimento sono per telepass slim per cui l'aggancio è buono sì diciamo che l'aggancio è buono lo sgancio è sicuramente abbastanza duro da un lato potrebbe andare bene magari se lo utilizzate con le moto con le macchine ecco ripeto è anche vero che normalmente uno l'ultimo passa non è che lo toglie lo mette continuamente per cui e poi probabilmente ecco facendolo continuamente la presa sarebbe sicuramente ecco un po di attrito un po di usura potrebbe sicuramente migliorare in ogni caso comunque è un bel set è un kit comunque da 4 per cui perfetto magari per un'azienda più che per un privato che raramente ha così tante auto e può essere una buona soluzione alternativa a quelli invece originali anche se vi ricordo che è sempre possibile nel caso in cui ne perdiate uno rivolgervi a un punto blu o comunque ad un punto autorizzato dove vengono rilasciati i telepass o acquistarlo in quel caso però costano tipo 6 euro l'uno oppure l'alternativa potrebbe essere anche quella di brutalmente farselo sostituire l'intero apparato semplicemente dicendo che è rotto in quel caso vi viene fornita una nuova bustina che ha sia questo che il suo gancio e da quanto so è totalmente gratuita la cosa va bene in ogni caso vi lascio il link in descrizione e vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto vi è stato utile e se avete voglia iscrivetevi al canale gratuito e diciamo ci date una mano a crescere e nel frattempo se attivate anche la campanella diciamo avrete avvisato ogni volta che rilasciamo un nuovo video grazie e alla prossima